buongiorno ragazzi oggi preparerò una zuppa mangiata in thailandia a base di cocco e di verdure vediamo un po come esce fuori a me piace in versione piccante allora ci ho messo il coriandolo la cipollina un po di zenzero carote cavolfiori questi sono violacei un po di pomodoro che altro carote e andrebbe anche della citronella ma in alternativa a quella abbiamo messo un po di zenzero che dà lo stesso sapore e poi aggiungeremo l'ingrediente top che sono i gamberi li sto sbollentando insieme a delle patate americane dopodiché li andrò a sbucciare a questo punto andrò a versare nella pentola del latte di cocco e poi ci verserò il verdure diciamo tutte le nostre verdure e mancaviamo bene questo facendo sto provando una ricetta thailandese con gamberi che mangiamo in thailandia con latte di cocco miracolosa cavolfiori viola allora dopo avere sbucciato i gamberi li mettiamo insieme alla zuppa che abbiamo preparato insieme al latte di cocco allora io ci ho fatto pure un'aggiunta a mio piacimento di una patata e aggiungo un po di salsa soglia ecco qua e il mio gradimento un po di piccante interiore ed ecco qua la famosa zuppa thailandese mangiata per la prima volta in un ristorante particolare di bangkok buon appetito